elisabetta canalis e brian perry il divorzio è ufficiale dopo dieci anni insieme e una figlia l'ex velina il chirurgo ortopedico americano hanno chiuso definitivamente la loro storia a quanto pare i due avrebbero già depositato le carte in tribunale per chiedere l'affidamento congiunto della figlia skyler eva di sette anni dunque non ci sarà nessuna lotta genitoriale d'altro canto la showgirl non avrebbe richiesto alcun assegno di mantenimento la canalis avrebbe già lasciato il tetto coniugale per trasferirsi in un appartamento al suo fianco è arrivato dalla sardegna la madre che in questi giorni starebbe vivendo insieme alla figlia per darle il suo supporto tuttavia nonostante il divorzio pare che elisabetta non tornerà in italia per la modella la priorità rimane la sua bambina e per questo avrebbe deciso di rimanere a vivere a los angeles almeno per il momento i rumors su una possibile separazione girano ormai da tempo è dalla scorsa estate infatti che elisabetta e brian non si mostrano insieme sui social inoltre non sono neanche stati beccati casualmente da qualche fotografo qualche settimana fa poi in occasione della settimana della moda milanese la 44 n è stata vista in compagnia del campione di kickboxing georgian cimpiano l'ex velina e lo sportivo si conoscono da tempo infatti sui rispettivi profili instagram hanno condiviso diverse foto e video dei loro allenamenti a quanto pare però tra i due potrebbe esserci più di una semplice amicizia dato che proprio qui in italia sono stati avvistati all'ingresso dell'appartamento della canalis elisabetta canalis e brian perry si sono conosciuti nel 2013 durante una festa di halloween negli stati uniti tra i due è scoccata la scintilla e l'anno successivo sono convolati a nozze con una bellissima cerimonia ad alghero in sardegna dopodiché nel 2015 è nata la loro bambina skyler eva la coppia sembrava essere super affiatata come si evinceva dalle foto e dai post che l'ex velina era solita condividere sul proprio profilo instagram ciao ciao ciao